e anche quello ti sto guardando questo è un pesce carino ti sta salutando guarda anche questo si è avvicinato a noi non è che ci vuole dare un mare ma quello è un gioco è un pesce carino guarda vediamo come si muove guarda guarda si è riposato ci sta dormando c'è un pesce carino che è un pesce carino è un pesce carino perché io ho fatto la linguagra è tutto il pesce carino ma c'è un pesce carino è un pesce carino è un pesce carino